Gentili telespettatori, buona giornata. Si parla delle nuove aliquote IRPEF. C'è una prima ipotesi, questa seconda colonna, e una seconda ipotesi, questa terza colonna. Nella prima ipotesi ci sono tre scaglioni, 23, 28% e 43%, nella seconda ipotesi 23%, 33% e 43%. Qui nella prima colonna ci sono i redditi, 18.000 euro all'anno, lordi, vuol dire 1.500 euro al mese, brutti, senza ancora le tasse pagate. 20.000 euro, 25.000 euro all'anno, 30.000 euro all'anno, 35.000 euro all'anno, 50.000, 60.000. Nell'ipotesi 1, se voi guardate, si pagherebbe in più 90 euro di tasse all'anno, con 20.000 si pagherebbero 150 euro in più di tasse, con uno stipendio di 25.000 euro si pagherebbero 300 euro in più di tasse, con l'ipotesi 2 si pagherebbero 250 euro in più di tasse. Con 35.000 euro a questo punto si comincerebbe a guadagnare, da 35.000 euro in su si comincerebbe a risparmiare meno 100 euro di tasse, con 50.000 euro si comincerebbero a risparmiare 1.150 euro di tasse, con 60.000 euro sempre 1.150 euro di tasse. Con la seconda ipotesi, invece, tutti gli scaglioni avrebbero un guadagno, si pagherebbero meno tasse, vedete, 60 euro in meno, qui si parla all'anno, 100 euro all'anno in meno di tasse, 200 euro all'anno con 25.000 euro, con 30.000 euro 300 euro di tasse in meno, con 35.000 euro 400 euro di tasse in meno all'anno, e dopo 50.000 euro vediamo meno 700 euro di tasse all'anno. Se voi guardate questa tabella, queste sono le tasse che si pagano oggi, per esempio, con 18.000 euro di reddito, oggi si pagano 4.200 euro di tasse, con l'ipotesi 1 se ne pagherebbero, vedete, 4.290, cioè 90 euro in più di tasse, e con l'ipotesi 2 si pagherebbero i 60 euro in meno di tasse, che vediamo qua, li vedete? I 60 euro in meno di tasse. Pertanto, con la seconda ipotesi, tutti ci guadagnano in proporzione al proprio stipendio, con l'ipotesi 1 ci guadagnano solo dai 35.000 euro in su. E vediamo poi qua le due ipotesi con i numeri, nel senso che nell'ipotesi 1 si pagano in percentuale queste tasse in più, vedete? Arrivando qui, dopo i 35.000 euro, si comincia a pagare l'1% in meno di tasse, l'1,09, qua, che era praticamente con i 50.000 euro di stipendio, lordi, si pagherebbe quasi l'8% in meno di tasse, qui se ne pagherebbe il 6,15% in meno. Se guardate nella seconda ipotesi, tutti pagano meno tasse, però chi ne paga meno è in percentuale intorno ai 50.000 euro, c'è una riduzione comunque notevole, mentre per chi ha uno stipendio basso c'è una riduzione dell'1,43%. Ovviamente, se dovessero fare la prima ipotesi, ma non credo, credo che si vada su un qualcosa dove tutti ci possano guadagnare qualcosa. Naturalmente, di quanto stiamo parlando? 60 euro in 12 mesi sono 5 euro al mese in meno di tasse, quindi vuol dire 5 euro in più. Oggi chi ha 1.500 euro lordi di stipendio all'anno pagherebbe, cioè, gli rimarrebbero in tasca 5 euro in più al mese. Chi guadagna 20.000 euro gli rimarrebbero in tasca un qualcosa come 8-9 euro in più al mese. Chi guadagna intorno ai 25.000 euro all'anno avrebbe qualcosa meno di 20 euro al mese in più. Chi è sui 30.000 euro dovrebbe avere un 30 euro, ma forse facciamo un 25-26 euro in più al mese. Chi ha 35.000 euro dovrebbe avere proprio 30 euro in più al mese. Chi è sui 50.000 euro dovrebbe avere, diciamo, un qualcosa come 40 e qualcosa euro in più al mese. Ecco, la mia riflessione è questa. Naturalmente c'è qualcosa che rimane in più nelle tasche. Poi gli mettiamo il cunio fiscale e anche lì c'è qualcos'altro in più che rimane nelle tasche. Ad esempio, chi prende 1.500 euro lordi al mese si troverebbe 5 euro in più al mese con la riforma dell'IRFPEF più un altro 8 euro di cuneo fiscale. Alla fine ti trovi 12-13 euro, 14 euro in più al mese. 14 euro in più al mese, diciamo 40 centesimi in più al giorno. 40 centesimi di euro in più al giorno. Siamo ben, ben, ben lontani da un salario minimo. Un salario minimo che darebbe una certa cifra giornaliera, siamo ben lontani. Nel senso che qui si parla di un 18.000 euro che sono già 1.500 euro lordi ma ci sono stipendi molto più bassi, molto più bassi dove la variazione dell'IRFPEF ti porterebbe in tasca un euro in più al mese o qualcosa del genere. Pertanto per i redditi bassi realmente non c'è un cambiamento. Grazie a tutti e arrivederci a presto.